Aria di Maretta in Regione. La storia non è nuova, ma ora se ne fa un gran parlare e forse si arriverà a qualche conclusione eclatante, come annunciato da uno dei protagonisti. I primi segnali si erano avvertiti al momento di votare per la chiusura dei punti nascita, quella che aveva tanto fatto discutere, indignare, manifestare e protestare migliaia di abruzzesi. A opporsi alla sua stessa maggioranza era stato proprio Luciano Monticelli, consigliere regionale, esponente del Partito Democratico ed ex sindaco di Pineto. Dall'in poi la disputa cortese di un braccio di ferro che ha così impedito almeno quella chiusura. Oggi ad unirsi al dissenso, sebbene per altre ragioni ci sono anche due rappresentanti, entrambi targati a Bruzzo Civico. Si tratta dei consiglieri regionali Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri. Sebbene nel loro caso i rapporti erano stati connotati da una delusione lunga 13 mesi, quella di non essere entrati in giunta come gruppo, oggi il loro dissenso si muove su temi quali cultura, sanità e decisioni non condivise. Restano ancora in attesa di veder colmata quell'assenza nelle poltrone decisionali. Infine la notizia di un imminente rimpasto di giunta. Sembra che il malcontento di Abruzzo Civico potrebbe giungere a una conclusione. Si parla di una sostituzione che in questo caso penalizzerebbe SEL via l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca e dentro uno dei due rappresentanti succitati. Anche se per ora proprio Mazzocca smentisce la notizia e tira dritto.